Quali sono alcuni sintomi del cancro alla vescica? Alcuni dei sintomi del cancro della vescica sono gli stessi di quelli di un'infezione della vescica o di altre condizioni mediche, quindi non dovresti automaticamente temere di avere un cancro se li avverti. Dovresti vedere un medico per testare il più presto possibile, poiché entrambe le infezioni e il tumore della vescica devono essere trattati immediatamente. Sangue nelle urine, dolore e bruciore e minzione frequente sono i principali sintomi del cancro alla vescica. Il sangue nelle urine è uno dei sintomi più comuni del cancro della vescica, ma può anche segnalare problemi renali o altre condizioni. Il termine medico per il sangue nelle urine è l'ematuria e l'ematuria può essere visibile solo al microscopio o potrebbe essere visibile ad occhio nudo. Se noti un po' di sangue nelle urine anche una sola volta, dovresti andare da un medico per farlo controllare in quanto potresti ancora sanguinare anche quando non vedi più segni di sangue. Quando l'ematuria è visibile, può sembrare di colore rosso o marrone può essere solo poche gocce. Perché potresti ancora sanguinare a non saperlo, è importante non pensare che i sintomi del sangue nelle urine siano spariti. Non scompaiono e devono essere controllati il prima possibile da un medico. Ematuria non sempre significa cancro della vescica, ma nel caso in cui si ha il cancro la vescica è importante trattarlo in anticipo in quanto questo può essere un cancro difficile da trattare nelle fasi successive. Dolore e bruciore durante la menzione possono essere segni di un'infezione alla vescica o sintomi di cancro. Spesso il dolore in entrambe le condizioni si presenta come una sensazione di bruciore. Una visita dal medico dovrebbe essere fatta subito per escludere il cancro alla vescica nella maggior parte dei casi e trattare l'infezione. Ancora una volta, i sintomi più probabilmente non significheranno il cancro, ma il trattamento precoce è il migliore nel trattamento del cancro alla vescica, quindi è importante una diagnosi precoce. La menzione frequente è un altro sintomo del cancro alla vescica, ma anche molte altre condizioni come il diabete hanno questo sintomo. Se noti un cambiamento nella frequenza con cui stai urinando, dovresti farlo controllare clinicamente il prima possibile per scoprire la causa. La sensazione di avere ancora bisogno di urinare dopo averlo già fatto e di urinare per periodi più brevi sono altri possibili sintomi del cancro alla vescica che dovresti discutere con il tuo medico.